Via l'uomo! Vai! Via va! Parti! Sarinen manca completamente il break e galoppa molti metri dietro rispetto alle sue avversarie. Con Anna Azzurra che all'interno va ad incalzare Naïf Dey, le due procedono a coppia, seguite da Falcognana che è vicino Didal, all'argo della quale avanza Bye Bye Norm, poi Team On Board e Sarinen leggermente più arretrata. Anna Azzurra che vince la sua personalissima battaglia per la leadership davanti a Naïf Dey che rimane seconda. Al terzo avanza per corsie più interne Falcognana in giubba giallo-bianca. In quarta posizione di fuori invece Bye Bye Norma in verde, all'interno della quale in giubba Paglierino con la V Azzurra galoppa Didal. Più dietro Team On Board in bianco-blu e Sarinen in bianco-grigio che si è riportata a contatto con le altre sei. In quest'ordine le cavalle Anna Azzurra che va a completare la rettopposta da frontrunner, seguita da Naïf Dey che viaggia a largo di Falcognana, poi ancora Didal insieme a Bye Bye Norma, Team On Board che le segue, Sarinen sempre all'estrema attesa secondo il suo abituale costume tattico. Metà della curva sempre con le stesse posizioni e si completa con Anna Azzurra che va sempre a curvare larga, Falcognana in scia, a largo Naïf Dey, poi ancora Bye Bye Norma che ha in schiena Team On Board, di dentro Didal e Sarinen sempre in coda. Intersezione delle piste, Anna Azzurra inizia a sveltire all'interno Falcognana, di fuori invece Naïf Dey ancora più a largo, Bye Bye Norma, Team On Board che si avvicina gradualmente, poi ancora Didal, Sarinen più dietro e sempre Anna Azzurra in vantaggio, le cattive si fanno sotto, di dentro Falcognana, di fuori Bye Bye Norma, ancora più all'interno Didal, Naïf Dey che non guadagna, Team On Board che prova ad ingambarsi, poi Sarinen, Falcognana che va all'attacco di Anna Azzurra, Bye Bye Norma a largo, Naïf Dey che adesso ha trovato l'ingambata, poi ancora Didal, arrivo tutto da vedere, Bye Bye Norma che scatta a largo di Falcognana, le due in aperta bagarre davanti a Didal che prova a sua volta di inserirsi, Falcognana su Didal, Bye Bye Norma nell'ultimo tratto, Falcognana che va a concedere il bis, davanti a Didal, Bye Bye Norma e poi ancora Anna Azzurra. Falcognana, Vincenzo Varchetta che colpisce scelta giusta da parte del team, signor dettore al training, il signor Ciampa ai colori. Falcognana, Vincenzo Varchetta che ha ancheardato, Grazie a tutti.